Siamo qui in un ambiente multidisciplinare per capire come si è modificata la ricerca scientifica nel corso degli ultimi anni e come questo è andato ad impattare il trattamento del tumore al seno in fase precoce. Se vogliamo riassumere, la ricerca si è modificata sostanzialmente per tre motivi. Primo c'è stato lo shift dall'ambiente adiuvante al setting invece neoadiuvante e poi c'è stata la costruzione e il disegno di studi clinici che si sono focalizzati su alcune biologie specifiche di malattia e poi in ultima analisi si è andata a valutare in maniera importante la risposta al trattamento e quindi la possibilità di suddividere i pazienti in due grandi categorie, coloro che rispondono rispetto a coloro che non rispondono ai trattamenti in maniera ottimale. Tutto questo è andato ad amplificare l'importanza dell'ambiente multidisciplinare. Quindi Gianpaolo ti chiederei come queste considerazioni si inseriscono nel trattamento del tumore al seno triplonegativo e in particolar modo che cosa ha rappresentato l'introduzione dell'immunoterapia in questo contesto. L'immunoterapia se pensiamo al concetto storico di triplonegativo come il sottogruppo povero che non può essere trattato con la terapia anti-R2 e con la terapia endocrina è una rivoluzione di fatto perché per la prima volta da quasi 30 anni nel sottogruppo con recettori negativi che poi abbiamo capito essere il tumore triplonegativo arriva un qualcosa che non è una chemioterapia e che determina un beneficio importante clinicamente e statisticamente. I dati presentati all'ESMO a 5 anni confermano che questo beneficio permane a un lungo follow-up e i dati sul distant heaven free survival dimostrano, anche se l'over survival non è ancora matura, che questo trattamento impatta in termini di più vite salvate e quindi anche le donne con tumore triplonegativo possano guardare alla loro malattia in modo diverso e non così negativo come era prima che questa terapia arrivasse. Ma dicevamo nell'introduzione che tutte queste considerazioni sono andate ad amplificare l'importanza della multidisciplinarità, quindi Pietro che ruolo ha il radiologo in questo contesto, che importanza ha, quali sono le informazioni che deve dare al gruppo multidisciplinare? Beh, direi che anche in questo caso il ruolo del radiologo sia fondamentale, primo perché il radiologo deve identificare la presenza della lesione, secondo perché con procedure interventistiche guidate dall'imaging deve dare la diagnosi, la diagnosi che comporta anche tutte le informazioni di immunistochimica che poi saranno valutate dal resto del gruppo per capire quale sarà l'impostazione terapeutica e poi ha un ruolo nel momento in cui la paziente viene sottoposta a una terapia neadiuvante che è quello di verificare la risposta alla terapia, cosa che si riesce a fare molto bene con la risonanza, un po' meno con le altre tecniche e c'è da dire che ultimamente è comparsa anche la mammografia con mezzo di contrasto che pare stia dando dei buoni risultati sempre per valutare la risposta a una neadiuvante. Ancora c'è da aggiungere che quando si va alla biopsia, solitamente sotto immagini ecoguidate, si va a posizionare anche una clip, perché come sai è fondamentale per te poi sapere quale sarà il letto tumorale nel momento in cui la risposta è stata una risposta patologica, perlomeno patologica, radiologica completa, patologica no, perché sappiamo che la radiologia, l'imaging ad oggi non è ancora in grado di darci un corrispettivo certo di risposta patologica completa. E quindi diciamo che il ruolo di cooperazione è fondamentale, perché quello che fa il radiologo serve a entrambi, primo per decidere se fare una terapia neadiuvante, piuttosto che andare direttamente alla chirurgia, e poi tutto il follow up durante la terapia per vedere se la terapia è efficace su quella paziente e su quel tumore. Quello che hai detto tu Pietro è sicuramente fondamentale, perché il nostro ruolo del chirurgo è cambiato tantissimo con questa nuova situazione. Da sempre siamo il punto di riferimento iniziale per il paziente, ma prima era tutto più semplice, vedevi la paziente, la operavi, e poi la paziente veniva gestita successivamente con i trattamenti adiuvanti. Adesso è tutto più complesso, ma siamo ben contenti che sia così, però certamente abbiamo bisogno di skills, di esperienze che siano superiori rispetto a prima e questo rinforza l'importanza del meeting multidisciplinare, perché ovviamente i rapporti che abbiamo con la radiologia sono fondamentali, il posizionamento della clip, la localizzazione della lesione, il downstaging che si ottiene a livello linfonodale hanno cambiato profondamente quello che è il nostro approccio grazie ai nuovi agenti terapeutici e tutte queste considerazioni vanno fatte naturalmente considerando il ruolo dell'anatomia patologica, della radioterapia, insomma. Quindi il nostro ruolo è diventato sicuramente più completo, più completo e questo prevede che ci sia un rapporto molto stretto insieme a tutti gli altri membri core della breast unit. E invece tu cosa mi dici Gianpaolo del ruolo dell'oncologo? Come è cambiato? È cambiato... Come si inserisci in questo contesto? Io direi che la cosa più importante che ha portato l'immunoterapia è che questo è un trattamento che noi sappiamo che funziona dato prima della chirurgia e che verosimente non funziona dato dopo la chirurgia. Quindi una paziente operata che non arriva all'opzione immunoterapica è una paziente che vive di meno. che ha meno opzioni di essere curata. Questo è qualcosa che se il chirurgo sa interiorizza quando la paziente arriva e dice ma io voglio solo che me lo tolga e poi ragioniamo sul resto, ha gli strumenti già in quel momento per impostare un percorso con la paziente che sia lineare rispetto a quello che poi sarà il compito dell'oncologo di spiegare che tipo di terapia è. E anche a livello di imaging nel momento in cui c'è la consegna dell'istologico indirizzare già la paziente con l'idea che verosimente verrà proposto un trattamento inadiuvante è un qualcosa che mette la paziente nell'idea di non avere idee divergenti o i dubbi rispetto a quello che deve fare, quindi massimizza ancora di più l'integrazione multidisciplinare perché questo è un trattamento che deve essere proposto nelle donne alto rischio e deve essere fatto inadiuvante, non può essere fatto altrimenti. Quindi rafforza la multidisciplinarietà. Quindi se vogliamo un pochettino riassumere quello che abbiamo detto allora certamente abbiamo adesso delle opzioni terapeutiche che prima non avevamo e sappiamo quanto sia utile da un punto di vista proprio della guaribilità e della guarigione dei pazienti come sia fondamentale applicare questo tipo di trattamento in un setting neodiuvante piuttosto che dopo l'intervento. E poi anche a costo di essere banale credo che le due parole fondamentali siano da sempre multidisciplinarietà e ne abbiamo parlato tantissimo ma naturalmente individualizzazione delle scelte perché certamente abbiamo di fronte una persona con le proprie caratteristiche e anche con un tipo di neoplasia che è diverso da tante altre. Quindi questo gruppo multidisciplinare di cui abbiamo una rappresentanza oggi è fondamentale per dare la scelta terapeutica migliore nella singola persona.